bentornati bentornati amici dall'eccesso in questo noissime videace il giorno dopo in realtà perché dopo mezzanotte io sono fatto un bel bagno lungo rilassante petante anche perché ho avuto a scanciare belle mine da questa pancia gonfia e niente allora riavvolgiamo perché poi ho fatto un video molto alla Carlona dove ho parlato di tutto e di niente fondamentalmente ma penso capirete le emozioni le cose allora inizio subito a rispondere a una domanda che mi è arrivata fatta da tantissimi purtroppo al 99,9 per cento non si riuscirò ad essere né a Cagliari né a Pari per motivi sia che insomma comunque sono pur sempre spese sono pur sempre spese ma soprattutto in secondo luogo ho anche altro da fare so che sembra strano ma ho altro da fare al di questi video e di questa bellissima squadra che seguo con grande affetto che ho cercato di seguire andando anche allo stadio nonostante appunto le difficoltà del caso sarei andato a vedere anche altre trasferte ma purtroppo ad esempio quella di Brescia alla quale avrei partecipato volentieri e avevo una partita ed era di domenica e quindi ho dovuto adempiere mio obbligo di terza categoria e seguiremo e continueremo a seguire in queste ultime due partite l'anno prossimo e negli anni venturi fin quando ci sarà la possibilità ovviamente per me di fare questa attività youtubistica quindi questo per rispondere visto che in tanti me l'avete chiesto in tanti ci tenevate magari a fare non so una foto incontrarci per per scambiare due chiacchiere queste cose qua vedremo di organizzare poi allora per quanto riguarda invece la partita ecco questa è un'altra grande bella considerazione prima di parlare dei singoli perché poi da dopodomani andremo a parlare completamente di analisi totali tatticismi e quant'altro sul Bari allora io un'altra cosa che non capisco è questa sportività che sta emergendo da certi caglieritani cioè io io sono contento di avere una tifoseria matura se emergono questi dati qui non cancerogeni sono contento però io da tifosore del Cagliari ho visto negli anni un'antipatia verso il Cagliari le pecore il pane carasà o tutte le cose no più o meno offensive tirate fuori per offendere verso il Cagliari e voglio dire non c'è mai stato un minimo di comprensione non c'è mai stato un minimo di sportività un minimo di dire siete non ve lo meritavate no si è sempre cercato di infilare il dito nella piaga sempre sempre secondo voi questa sera cosa avrebbero detto i tifosi del Parma? sarebbero venuti sotto le nostre pagine a dire bravissimi andate a vedere l'ultimo posto del Parma sotto l'ultimo posto del Parma ci sono più tifosi del Cagliari che tifosi del Parma che dicono ah bravi ragazzi siete una grande squadra ragazzi ma fatevi i cazzi vostri cioè allora non volete infiarire? fatevi i cazzi vostri ma non andate sotto i profili di altre squadre a dire siete bravissimi allora o fate i tifosi del Parma o fate i tifosi del Cagliari poi sono contento che ci sia questa sportività che dal mio punto di vista è falsa ripeto perché dal punto... cioè forse loro oggi fossero passati aprite veramente le acque come faceva Mosè perché veramente usciva fuori una roba clamorosa invece per fortuna anche oggi piangono anche oggi recriminano sul nulla anche oggi in certi video si dice parleremo poi analizzeremo il gol non gol di Bonny cioè cosa devi analizzare di un episodio dove il pallone non entra? cosa devi analizzare? ma che... cioè analizza sto cazzo per cogliere delle citazioni cioè voglio dire ma cosa devi analizzare? questa sportività che ve legge vabbè comunque passiamo ai giocatori sono già passati 4 minuti allora io voglio iniziare da Macumbo Macumbo forse sarà di nuovo il titolo di questo video Macumbo mi devo scusare ancora mi scuso io farò il cammino verso Santiago di Compostela pensando a Macumbo anzi proposta per Macumbo per preparazione per la stagione facciamo assieme il cammino di Santiago io te la sparo così ok? te la sparo così e se vuole viene anche Nunziorella buttiamo tutti dentro io devo chiedere scusa a Macumbo e mi sento male cioè nel senso che allora come scusante mi do il fatto che all'inizio c'era Liberani e con Liberani non era questo tipo di giocatore però io che non riconoscessi ero arrivato a un certo punto dove sinceramente Macumbo l'avrei messo fuori dalla Rosa cioè dalla Rosa dagli 11 toari del Cagliari oggi io uno dei pochi punti dal quale sono sicuro di ripartire il prossimo anno nella posizione di mezzala andando a sfoltire lì in mezzo tutti i ribolliti sbolliti e bollitazzi che ci siamo ficcati dentro nella posizione di mezzala per uno come Macumbo che a livello difensivo ha fatto un miglioramento cioè Macumbo ha veramente una fase difensiva da mediano se quello con quella mezzala riesce a sviluppare anche questi lanci queste cose questi lanci e magari migliora il tiro che non ha perché purtroppo ho visto il riscaldamento nella partita e non ha ma se riesce ad aggiustare queste cose qua parliamo di una di una mezzala che ha un controllo palla che ha una capacità di freddezza di lucidità cioè il nostro mantra è la lucidità Macumbo è lucido Macumbo è lucido ma come fa non perdere mai la palla poi adesso abbiamo il Bari ripenso e poi ha causato rigore vabbè ma quelle cose possono succedere a tutti anche ai migliori cioè e quindi io sono un po' mortificato perché dico cazzo è vero quest'anno ci ho preso su tante cose sul fatto che Cufoli di Selella potessero essere molto utili sul fatto che certe scelte di mercato sono state folli e si sono rivelate tali che prendere certi bolliti non portava niente su Lengolan ci ho avuto ragione su Altare sul fatto che non andava bidonato a gennaio ci ho avuto ragione perché comunque quando gioca anche oggi quando è entrato è un muro è clamoroso sul fatto che si dovesse iniziare un progetto giovane avevo ragione sul fatto di insomma su tante cose ok adesso non ce la cantiamo troppo però dico cazzo ma posso aver sbagliato su una cosa veramente così ma ragazzi non stiamo parlando di dire che ne so prendo uno Robert magari dicevo è scarso e poi dico è forte non sono considerazioni così sottili cioè ma cumbo ragazzi queste partite di playoff che ha fatto ma anche quelle finali di stagione regolare comunque con Ragneri parliamo di un giocatore di uno dei più forti della Rosa come ho fatto a prendere sta cantonata clamorosa il mio problema secondo me è stato il fatto di essermi fossilizzato sull'immagine di Macumbo con Oliverani comunque un giocatore che non era assolutamente un regista che non lo è comunque ancora adesso che oggi ha sparato 3-4 lanci precisissimi non si sa da dove siano usciti forse gliel'ha chiesti Regneri non lo so si è esercitato ed è un ragazzo che ha una condizione fisica allucinante oggi al 95esimo dopo aver giocato 38 partite più queste da titolare tutti i minuti ha la forza di inserirsi e dettare il pallone in profondità cioè io mi chiedo io mi chiedo ma con quale forza posso ancora farvi video cioè io veramente sono andato contro un giocatore cioè poi in realtà non mi è mai stato antipatico re serse primo di pensio re serse primo di pensio non mi è mai stato antipatico mi stavo un po' antipatico alla narrazione che si era creata secondo me e questo lo penso ancora dietro a una figura un po' particolare per quando era arrivato e per come giocava le prime partite e Makumbo le Magician le cose si ma le Magician ma ballava solo perdevo una maria di tempo ad oggi Makumbo è io rimango veramente strefatto l'upgrade difensivo che ha fatto Makumbo cioè è un giocatore clamoroso è un giocatore clamoroso poi col Bari farà due partite o scene lo so già non dovevo farlo questo video ma io mi prendo le responsabilità cioè nel senso come mi sono sempre prese cioè vi chiedo anche scusa perché molti di voi si fidano anche delle mie sentenze no vi chiedo scusa vi chiedo scusa perché è proprio ciccatissima ripeto la cosa che lui non fosse un regista la penso tuttora e su quello penso di averci preso dalla prima volta che l'ho visto toccare un pallone ma sul valore del giocatore ho avuto una grade allucinante oppure io oggi mi chiedo ma che cazzo vedevo cioè il giocatore è quello più o meno a grandi linee non è che anche adesso però è un giocatore che dici ma come faccio a giocare senza Makumbo cioè ecco se ci si Makumbo per sbaglio e si dovesse rompere prendi noi abbiamo perso non la guardo neanche non faccio neanche live abbiamo perso cioè pensateci pensateci sinceramente dopo queste partite fatte qual è il giocatore più importante del Cagliari Makumbo come ho fatto ad aver sbagliato su una cosa di questo tipo vabbè comunque Kufaridis in realtà hanno già parlato del video quindi sorvolo ma ha fatto un primo tempo totale bellissimo aveva ragione su questo aveva ragione nel senso che lui dovesse dovesse giocare nel primo tempo quando c'era più corsa quando c'era la possibilità di ripartire e non c'era questo tatticismo ragnerismo robe masterclass di difensivismo puro Azzi comunque è un giocatore valido l'alternanza zappa di Pardo mi è comunque piaciuta mi è comunque piaciuta e può diventare comunque un bel fattore in realtà è una coppia è una coppia di terzini che devo dire non è neanche malassortita perché di Pardo comunque guardate che a livello difensivo non è scarso non è scarso ma perché perché ha le leve molto più corte di zappa Gabri ha una falchiata molto molto imponente e continuo a ritenere che sia un terzino un esterno valido come terzino ho dei dubbi sulla fase difensiva lui secondo me con un difensore dietro che gli copre diventa veramente potenzialmente letale senza è difficile senza è più difficile senza è più difficile ma insomma comunque quest'anno anche lui ha fatto tra le sue migliori partite quando giocava anche a 4 quindi lascia il tempo che trova in serie B in serie A è sempre lì poi il problema ma adesso pensiamo ad arrivarci altre cose che mi sono piaciute la Padura andava tolto un 10 minuti prima ma ci sta che non se la si è sentita subito di toglierlo Prelez mi è piaciuto come è entrato Luvumbo comunque al di là del gol lasciate perdere che lì avessimo perso poi lo bastonavamo però cioè togliendo quell'aspetto lì Luvumbo ha fatto un'altra partita clamorosa secondo me una delle migliori cioè è un giocatore anche lui che comunque si impegna che comunque è cresciuto tantissimo con Ranieri tantissimo con Ranieri cioè Ranieri ha fatto veramente un lavoro nei singoli una cosa clamorosa poi ripeto se io devo analizzare queste tre partite per me il Cagliari è andato in difficoltà per le scelte sbagliatissime di Ranieri e questo lo continuo e lo continuerò a dire cioè le scelte di oggi folli le scelte del Venezia col Venezia folli le scelte di formazione iniziale della scorsa partita scusate folli cioè quindi sì e ora col Bari vediamo tra quanti giorni è 4 forse 4 giorni adesso abbiamo per riposare 5 non lo so 4 forse boh vabbè 4 giorni riposiamo e vediamo come ci si arriva fisicamente col Bari e lì poi si faranno le valutazioni di conseguenza De Iola il nostro fare capitanismo che anche qua illo capitano sta gasando Altare Goldaniga il giudicatore quell'intervento che fa il 91esimo dove prende il giallo quell'intervento vale una stagione quell'intervento lì di Goldaniga vale una stagione capite cosa vuol dire avere un difensore del genere che fa il panchinaro capite cosa vuol dire capite questo è un giocatore che purtroppo fidatevi cioè ce ne pentiremo tanto di uno sottovalutato allucinante un giocatore forte un giocatore esperto ma comunque molto sul pezzo ancora forse non ha neanche 30 anni non lo so però mi piace tantissimo Altare è entrato vabbè non ve lo sto neanche a dire questo a tutti quelli che dicono che è scarso cose puppate e altre cose che vi debba dire ma non lo so anche Viola mi è piaciuto come è entrato ma mi sono piaciuti tutti la gente sotto traccia rese se ne ho parlato mezz'ora azzi insomma anche se vi devo dire sapete chi mi manca chi mi manca l'appello per far peggiorare le cose tognone hashtag tognone barreca lui si che manca per manca per aiutare il Parma quindi finisco facendo un pensiero ai tifosi del Parma mi dispiace nel senso cioè nel senso mi dispiace manco per il cazzo sto godendo come un animale però nel senso vicinanza magari ai tifosi meno meno cancerogeni ecco rispetto a quelli che nella scorsa partita urlavano pecore di qua di là sotto le pagine instagram che piangevano che insomma ne combinavano di ogni la mia compassione perché comunque la serie B starci tre anni di fila ragazzi è pesante è pesante per chiunque per squadre comunque abituate alla serie A un bacione ciao a tutti ragazzi grazie a tutti